stanno pure venendo buon uomo mi dica vuole sapere dove è il mare alle sue spalle assolutamente signori benvenuti o bentornati nell'angolo di claudio settimo episodio li sto registrando di fila perché mi sono gasato per questo nuovo villaggetto con tanto tanto potenziale allora la volta scorsa abbiamo trovato appunto questo villaggio praticamente di là c'è casa nostra ci separa veramente un po di terra di qua abbiamo anche un portale nascosto qua in mezzo che provvederemo a ripristinare prima o poi e io ho deciso di far casa qui come vedete ho preso un po di materiale la volta scorsa da casa e però dobbiamo metterlo giù e sistemarci quindi il discorso era ci freghiamo una casa dei villager o ne costruiamo una magari qui io direi di costruirne una noi qui però se non metto giù il materiale non possiamo farlo perché io mi volevo fregare quella piccolina ma c'è il villager che nel frattempo è cresciuto quindi lo lasciamo stare io direi di metterci qua in arriva al mare allora io la pala l'avevo buttata di niente facciamo così e ci mettiamo in mezzo alle zucche casualità che io stia scegliendo in mezzo alle zucche buttiamo giù anche questa ok e ci mettiamo tutto quello che però non mi serve e piazziamo anche un paio di torcette così diciamo che dovremmo stare più o meno tranquilli penso proprio di no però vabbè allora leviamo di mezzo ste zucche devo conservarmi anche la lava che provvisoriamente direi di mettere in sicurezza così perfetto ok non fai danno penso di no ok mi serve dell'acqua perché volevo liberare un attimino la situazione e poi dobbiamo recuperare legna sostanzialmente quindi vogliamo sfruttare questa zona ma si direi che va più che bene facciamo così che benessere perché fare così a mano anche no eh ok colpi di barca no vabbè io direi che questo spazio è più che sufficiente mi faccio una pala il ferro me lo sono portato sì però non ho legna benissimo a mettiamo anche giù il lettino così perfetto e andiamo di là che ci prendiamo un po di legna nel frattempo mettiamo un paio di torce lungo il percorso ok l'unica cosa che mi dispiace ragazzi di registrare gli episodi uno dietro l'altro è che non riesco a leggere i vostri commenti però mi piace troppo sono leggermente preso dal gioco quindi niente me lo sto letteralmente spolpando rapidamente e ripeto mi dispiace perché mi privo di leggere consigli e altro però fixeremo anche questa cosa rallentando semplicemente l'uscita perché materialmente alla fine mi ci chiudo ora devo editare praticamente dall episodio 4 a questo che è il settimo se non erro quindi sì mi devo dare una regolatina con gli episodi però mi piace insomma quindi non me ne privo assolutamente allora qua mettiamo pure un po di torce tanto a carbone non siamo messi proprio benissimo però ok qua avevo bloccato pure un villager andiamo a dormire prima che succeda qualcosa di brutto la qua già vedo brutta giuente quello sul addirittura ragno con in mano che cosa aveva una pala sì stanno pure venendo buon uomo mi dica vuole sapere dove è il mare alle sue spalle assolutamente allora il sole sorge di là e quindi orienteremo la casa da quel lato perché è fondamentale allora facciamoci tutta questa legna perfetto potevo recuperarmi anche un po di cobblestone da casa ci ho pensato solo ora però vabbè e andiamo a delineare un attimino quello che sarà la casa quindi quella l'avevo fatta diciamo non tanto piccola né tanto grande 1 2 3 4 5 6 7 8 8 però considerate 1 2 3 4 5 6 così non avrei un centro quindi 9 e 10 ok quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 così 1 2 3 e 4 questo è praticamente il nostro centro ottimo allora considerato che il sole di là possiamo fare 1 2 3 4 5 6 7 8 facciamo un 8 per 8 ma sì ok l'ingresso lo facciamo centrale quindi qua non metto nulla sì dai facciamo queste due porte così e qua possiamo chiudere in tranquillità ok via voglia ragazzi più grande di così si muore poi facciamoci dei sticchettini che così mi faccio la pala penso di poterla fare solo nella crafting esatto ok e pala perfetto e leviamo uno strato così facciamo il pavimento e ci recuperiamo a questo punto qualche chest è la cobblestone è la cobblestone che dovrei avere allora le porte provvisoriamente vabbè a casa ce le opero le porte quindi in questo momento cosa possiamo fare alzare ancora un po 1 2 3 4 ok e ok così qua poi mettiamo le porte vediamo dove arrivo vabbè la legna che ve lo dico a fare ci è bastata giusta giusta per questi due strati ok facciamo così un'altra qua altre due qua ah dai non è malvagia poi rifaccio i contorni con la pietra magari qua sotto così è meglio allora direi di trasferire la nostra roba dentro per sicurezza sai com'è però non abbiamo ancora messo il pavimento quindi spostiamo solo il letto non mi fa dormire perché c'è il temporale allora sai che c'è me ne vado di nuovo lì e recuperiamo il tutto ciao bellissima come stai a posto stava molto bene qua ovviamente lasciamo tutto il mondo come sta sta lana non mi serve i cavallini vabbè sono là allora io cobblestone dovrei averne un po da parte poi mi recupero anche qua il discorso via voglia allora ce la portiamo tutta quella che abbiamo anche i gradini questo sì questi li lasciamo sabbia sì portatela i fiorellini li buttiamo qua questo pure flint vabbè sì questo ce lo recuperiamo allora porte dark oak questo ce lo portiamo questi pure il vetro già fatto dice quello che fatene privi la crafting l'abbiamo questi li possiamo lasciare tranquillamente qua e direi di recuperarmi però questa cesta ok quindi cosa buttiamo vabbè la terra raga non ce ne facciamo una mazza quindi la lasciamo tranquillamente da spawnare è di qua nella mia miniera che comunque ragazzi io cioè qua ci tornerò poi ci facciamo il ponte come detto e quindi non abbiamo particolari problemi sti banner per ora mettimeli qua mi porto anche questo e cobblestone comunque pochettina l'avevamo con lo stone cutter comunque ci salveremo da questa situazione questo ce lo recuperiamo e vabbè penso che possano bastare ci rivediamo nel villaggio dai ok rieccoci nel villaggio ho messo pure qualche torcina così abbiamo comunque il percorso un pochettino delineato come vedete sto continuando a metterne veramente alla cazzum ok qua vabbè abbiamo tutta quest'altra zona dove comunque ora poi scenderemo a recuperarci altra cobblestone nell'eventualità tu resta vivo che ci servi e qua abbiamo la discesa di casa nostra questo buco lo dovrò riempire perfetto allora mettiamo giù le fornaci così iniziamo a cucinare il tutto perché se non mi cucino la cobblestone capite bene che abbiamo fatto un prospero allora quindi questo stack 8 blocchi cucinano 64 7 8 ok ottimiziamo poi vabbè questo metterò qua ti metto un paio di cose così perfetto qua facciamo così nel frattempo usciamo pure lo stone cutter dovreste essere fieri di me ho lo stone cutter e porte porte con questo non volevo fare il pulsante però vabbè era un blocchetto solo quindi non me ne facevo una mazza e niente ci serve legna però vediamo di dormire e a questo punto le facciamo pure chiare tanto qua hanno tutto chiaro quindi ci adeguiamo anche noi stavolta ai standard della situa ok qua c'è questo leggero dislivello però vabbè allora legna 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 io simple non ne ho quindi dobbiamo tornare nella nostra fabbrica del legno che poi questo legno è un po' una rottura perché ne dà veramente poco abbiamo pure una tartaruga qua la fauna è abbastanza basta signori qua la pecora mi ha fatto cagare in mano se posso dirlo però vabbè allora tiriamo giù questo che almeno è bello rigogliosetto perfetto e questa volta magari lo ripiantiamo che dite sì direi di ripiantarlo perché comunque ce ne serviranno allora lo rimetto nella stessa posizione qua grazie al fatto che abbiamo fatto la modifica va bello spedito questa legna non ci basterà mai nella vita quindi giù di legna allora tac 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 ok direi che come legna ci può bastare anche perché c'è dovevo farci semplicemente le porte e magari completare qualcosa mi piacerebbe trovare anche non mi ricordo mai come si chiama la clay per poter fare praticamente i brick poi potrei recuperarmi anche dal nether però non abbiamo esplorato un granché quindi allora torniamo indietro che ah piantami pure un paio d'alberi più vicini grazie ok perfetto è perfetto poi qua daremo una bella sistemata però poi oltre tutto c'ho la casa vista mare con spiaggia annessa tanta tanta roba allora vediamo vediamo qua a che punto siamo stone perfetto ah e qua già aveva finito ottimo vetro ma si cucinami sti 25 poi mi fai questo di brick perfetto e sono 20 fammi anche questo di brick perché se vogliamo farci il contorno ci servirà mangiamoci qualcosa perfetto allora pavimentiamo tac 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 e poi a questo punto signori già ho finito i blocchi praticamente concepiamo anche il secondo piano a sto giro perché la volta precedente ho fatto la cavolata che non l'avevo considerato e poi lo dovete aggiungere invece stavolta ce lo facciamo direttamente allora sti pulsanti del cacchio li buttiamo mettiamo le porte giusto per non avere magari noie e mi faccio anche le pedane 1 e 2 che come le chiama il signor Dennis è la domotica in effetti sono praticamente fondamentali io le metto solo dentro perché così se passano zombie si attaccano qua poi dovrò sistemare qua con la terra però ci lavoriamo allora qua questi buttali fammi altri brick grazie non è proprio il miglior materiale del mondo perché comunque è dispendioso però magari per ora facciamo il pavimento poi facciamo anche il resto per uno ci siamo confusi va bene allora volevo farmi un paio di scale però magari ragazzi questa ce la mettiamo dentro ed evitiamo di fare avanti e indietro vaffanculo pulsanti allora così ci concepiamo tale mettiti qua ci concepiamo il secondo piano che io farei sfruttiamo questa parete si sfruttiamo questa parete ovviamente siamo bassi perché io vorrei fare un altro strato almeno altri due anzi quindi facciamo così e poi comunque ci ricongiungiamo qua ricongiungiamo che termini aulici allora questo quindi è il primo piano poi dobbiamo fare un altro strato ok che comunque è tutta chiara non è male se mettiamo i giusti elementi con lo stone brick che si sposa bene ok sono caduto perfetto vabbè facciamo così l'antica anche perché non ho bambù non ho una mazza ah quando vi finisce un blocco fate shift c'è shift la rotellina e vi torna in mano se l'avete nell'inventario che è detta così vi torna in mano vabbè non facciamoci caso i gradini mi sa che mi bastano che forte emozione uno e uno due perfetto e poi qua facciamo il pavimento di slab così risparmiamo un botto di blocchi certo sta salita così non è che mi faccia impazzire però allora slab come se non ci possono domani anzi fammi tutto questo di slab tanto ce ne serviranno un botto 36 non basteranno mai nella vita ok e poi qua dobbiamo alzare nuovamente quindi dovremmo lasciare anche eva fangulo ok 1 e 1 2 vabbè dai anzi diciamo che qua ovviamente dobbiamo fare così poi magari ci mettiamo una trapdoor la la trapdoor come si faceva forse così si ok e farmi altri slab per favore ok vabbè penso che ci bastano 37 allora completiamo così così mettiamo anche un paio di torce ok ottimo non è affatto male allora facciamo così perché poi qua ci verrà comunque il discorso che non ce le fa mettere queste le spostiamo me le metti pu 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 e vabbè penso che siamo abbastanza safe mettimene una qua per sicurezza ma ci siamo allora qua volevo mettere una botolina che così mi consente di scendere e salire però non mi dà fastidio poi qua dovremmo alzare almeno di altri due per fare un secondo piano decente le persone la fattispecie da Ramon per goderci il sole quindi fare una bella vetrata alias fare così e questo levarlo e ci mettiamo magari i pannelli sarebbe un'idea con i pannelli di vetro me ne servirà un botto però con calma si fa tutto direi così giusto per non trovare sorprese allora vediamo la pietra a che punto è così diamo un po' di definizione fuori ok aspettiamo anche l'ultimo perfetto ovviamente non ne ho più e possiamo anche ste due chest tipo qua bellissimo sono un artista una storta perfetto allora buttaci dentro tutta sta roba che non mi serve provvisoriamente la barca idem questo pure la bussolina il letto no ora lo rimettiamo ok ah è la Nentag che non mi serve pure a una mazza qua aveva finito il cuscino di vetro mettiamo anche questo perché tanto con i pannelli si risparmia si va bene lo stone cutter facciamoci ah si fammi tutti brick perché volevo concepire un attimo il discorso mi piacerebbe fare lo strato così basso così da un po' di solidità alla struttura ci recuperiamo pure un po' di legna che male non ne fa lo facciamo così perché sennò ci scannano ok e dà comunque un certo effetto poi diamo anche altri dettagli dico alla fin fine è tutto in corso d'opera ancora allora il letto provvisoriamente mettiti qua e dormiamo bene ragazzi io ora faccio un po' il punto della situazione dovrò recuperare altro materiale però insomma ci siamo spostati definitivamente assolutamente sì anche perché comunque la vista ne valeva la pena e niente noi come sempre ci vediamo in un prossimo episodio ciao step 1 wake up early gonna rise with the sun step 2 get some good some food in you step 3 grow hard about what you wanna be step 4 f*** everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be